e meno male che Luca C'è ragazzi vi voglio invitare a venire tutti quanti il primo dicembre al teatro Barone di Melito ore 21 a vedere lo spettacolo dei miei amici Luca Sepe, Raffaello Paz e Mary Esposito lo spettacolo si chiama Luca C'è, spettacolo su comico musicale di Lello Marangio e Luca Sepe ovviamente ringrazio anche il mio amico lo Zorgeri Svapo perché senza di lui non so come avrei fatto quindi non mancate perché Luca Sepe vi aspetta in moltissimi al teatro il giorno primo dicembre ah mi raccomando affettatevi perché i biglietti stanno terminando ciao e meno male che Luca C'è ciao ciao ciao